Il Centro Meridionale di Nazioni Ambientali e l'Amministrazione Comunale di Saluto attribuisce a me la motivazione premio Sorrento Negri a Raffaello Costina per la sua passione intensa per il volo e insieme alla fondamentale opera di produzione scientifica, trasmissione culturale e decidenale portata avanti con la sua casa edificia in una connessione tra aereo e terrestre e in una fase così delicata di trasformazione per l'opposizione della scena editoriale nazionale e internazionale. Grazie. Come diceva prima Paterno, questo lavoro in intarsio del settino classico va con la sperimentazione sterica, la ricerca di Carlo Felicissimo, che è una designer di ricerca di Gioieri e che quindi connette come è un po' nella prospettiva di me e credo anche nella casa edificia Raffaello Cortina la sperimentazione e la ricerca con la tradizione e l'affermazione sterica. Quindi c'è un po' il passato esogento e se vogliamo la prospettiva. insieme a questo trofeo una pubblicazione realizzata da Pucmea dedicata a un angolo tra i più belli della postiera solgentina che è mitigliata e una macchietta che abbiamo realizzato per questa occasione ovviamente io credo che vada aperta, non dico indossata ma insomma, forse è vero. forse è vero. ecco, magari un ventrebola, bellissima, veramente perfetto. ma anche un ventrebola. una cultura dell'aria che ci ha accompagnato da due anni. grazie e ritorniamo a questo punto, credo che dobbiamo conoscere anche dopo un pochino chi è Raffaello Cortina qui devono dare